Tra i centri più colpiti dal maltempo, Guardia Grele, sindaci ormai che non sanno davvero cosa fare più, siete diventati i terminali di una vera e propria emergenza. Sì, soprattutto perché nelle fasi critiche bisogna prendere delle decisioni nell'immediato, soprattutto disporre di fondi che molto spesso, come è accaduto anche nel nostro caso, non sono immediatamente disponibili. Questo è il motivo per il quale una misura che necessariamente va adottata e che l'Associazione dei Comuni chiede è quella distanziare immediatamente dei fondi perché i comuni, soprattutto quelli piccoli ma anche medi come il nostro, hanno dovuto far ricorso a delle risorse, dei mezzi esterni, non potendo chiaramente sostenere l'impegno che doveva essere messo in campo in quelle ore da sole. Poi c'è anche l'altra questione del disservizio legato alla mancanza di fornitura elettrica per giorni e giorni in diverse contrade del nostro territorio, come anche negli altri comuni, in gran parte dei comuni della regione. Io ritengo che non si possa limitare una misura di indennizzo a quelle ordinarie che sono previste nei contratti di servizio perché le famiglie che non hanno avuto fornitura per giorni dove magari c'erano delle persone anziane o disabili, insomma si è tornati indietro di cent'anni nella gestione di questa emergenza. Quindi noi nell'immediato abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica che nell'immediato non dà dei risultati ma comunque serve a noi per capire e per accertare le responsabilità. Grazie. Grazie. Grazie.